Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival La grande festa del cinema indipendente e internazionale Tre grandi eventi ad ingresso gratuito 10 novembre Notte Horror 11 novembre Animazione e cortometraggi 12 novembre Documentari e lungometraggi Dal 10 al 12 novembre Voghera Film Festival 2017 Al The Space Cinema di Montebello della Battaglia Esperti, estimatori, curiosi e beer lovers Tutti riuniti a Casteggio per la prima edizione di Sapori di Birra E noi di Occhio Pavese siamo qua per scoprire di cosa si tratta Venite con noi Assessore, cosa rappresenta Sapori di Birra per la città di Casteggio? Sappiamo che Sapori di Birra è un nome nuovo che però racconta un contenitore molto più ampio Che è quello che è stato Beer Art fino all'anno scorso E che rappresenta ormai tanto per il comune di Casteggio E per la comunità di Casteggio e per l'Oltrepo Perché di fatto è un'occasione per attrarre persone in Oltrepo Pavese Con un tema diverso da quello del vino e dell'enogastronomia classica Ma che ha preso piede Anche perché come spesso è stato ricordato in tutte le varie edizioni di Birra Art E quindi quest'anno anche verrà ricordato Questa è una manifestazione di alta qualità Parliamo di birrifici artigianali di elevatissima qualità Che stanno facendo ricerche nell'ambito della birra E quindi non è una festa della birra È un modo anche di promuovere delle attività produttive Quindi da questo punto di vista noi siamo sempre stati vicini a questa manifestazione E siamo contenti che sia ancora qui Valorizzare i prodotti con manifestazioni come questa Quanto è importante per la provincia di Pavia e per il comune di Casteggio? Importantissimo, non so quale sia il numero di edizione La mia edizione è la numero 3 Perché noi siamo molto felici anche come prefettura È una festa di valorizzare queste manifestazioni Tanto più che si tratta di prodotti locali Ora come ora la birra è diventata una moda Però in questo caso riteniamo che sia una perla del territorio Perché sono tutti i birrifici dell'Oltrepò Tutte birre artigianali Quindi diciamo siamo al top della produzione Non siamo in una manifestazione sulla birra organizzata all'ultimo momento Quindi siamo molto contenti come prefettura di essere presenti Dove si può valorizzare i prodotti del territorio come in questo caso Questa mattina c'era una conferenza proprio qua Sull'utilizzo consapevole, il consumo consapevole della birra Questo abbinamento tra promuovere il prodotto Però farlo conoscere anche sotto altri punti di vista Cosa ne pensa? E dobbiamo, ovviamente noi approfittiamo per promuovere anche la cultura della legalità Dove possa essere il consumo consapevole della birra Legato anche alla conoscenza dei rischi Che soprattutto la guida sotto l'uso di alcolici può comportare Quindi unire l'utile al dilettevole Quindi soprattutto la formazione delle scuole Perché noi crediamo molto che l'esempio si possa dare dai più piccoli Quindi insegnare la cultura della legalità e il rispetto consapevole Il bere consapevole dai più piccini e anche in questa occasione E un plauso all'organizzazione Sì, sicuramente, sicuramente E siamo con Alberto e Martina di Verde Design Che cosa ci fa Verde Design in una fiera della birra? Diciamo che ci hanno chiamato per allestire tutti i 6.000 metri quadrati di più stare Raccontateci un po' della vostra attività È una tecnica giapponese Il terriccio che utilizziamo è giapponese E arriva appunto direttamente dal Giappone La loro particolarità è che è una sfera di terra ricoperta da muschio E quindi non è il solito vaso che hanno tutti Per innaffiarla solo una volta a settimana Immergendo la sfera nell'acqua per circa un minuto Perché internamente c'è anche l'argilla espansa Che è un materiale che trattiene l'acqua e la rilascia gradualmente Spettacolare! Non avevo mai sentito parlare di tutto ciò ma è bellissimo Voi dove siete? Dove vi possono trovare le persone? A Pavia c'è il laboratorio dove noi facciamo tutte le creazioni Adesso ci siamo lanciati in questa avventura C'è una pagina Facebook? Sì è appunto Verde Design Anche la pagina Instagram Naturalmente siamo bisti per il momento Stiamo provando a vedere se questa cosa funzionerà E facciamo i mercatini Un negozio non ce l'abbiamo ancora E speriamo di riuscire ad aprirlo E siamo con Paolo che qui a Sapore di Biera rappresenta Appiaria Che azienda è Appiaria? Appiaria è un'azienda individuale a mio nome Produco principalmente api regine e nuclei di api E successivamente anche il miele Per cui abbiamo un'attenzione particolare per produrne anche se poco Però di una qualità molto importante per noi La scelta di venire qua a Casteggio Conoscevo già l'evento per gli anni passati È una manifestazione interessante E spesso si combina anche il miele nelle preparazioni della birra Perciò può essere che qualcuno è interessato anche al nostro prodotto Raccontaci proprio questa, la combinazione tra miele e birra Non sono un grande esperto Però ho qualche amico così che si diverte a fare dell'hombrue Perciò ho scoperto che anche viene utilizzato il miele nella fermentazione Per dare un sapore particolare alla birra Voi non la vedete ma in questo momento c'è una griglia qua di fianco Che è spettacolare E a Casteggio è arrivata anche l'Argentina Buonasera Buonasera a voi Allora tutto bene Sì 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 Mi piace incontrare l'Argentina in contesti come questo Perché siete sempre molto calorosi e molto pieni di vita Ma portate anche un sacco di cibo buono Carne, carne Ecco ecco sempre abbiamo la carne Guarda abbiamo la pancia Sempre carne di manso, di muca Abbiamo la pancia Le costine E la salsiccia Più La nostra specialità è il ciurrasco Il ciurrasco vuol dire un cotto filetto Circa 250 grammi Quello è proprio carne a centina Ma quando passano qua davanti i vegani e i vegetariani cosa dicono? Eh sì Prendono la testa Qua davanti rischiano di cambiare idea Ecco ecco E finalmente iniziamo a gustare le birre di questo sapore di birra E il primo sapore è quello di questa azienda Croce di Malto Lo leggiamo alle mie spalle E qui a parlarne con me c'è Miller Ciao Ciao Allora raccontami un po' Croce di Malto è questa birra che ho in mano Che birra è? Allora sto qua è la Triflex Che è la birra campione del mondo 2009 È una birra di stile belga Strong ale Leggermente dolce Leggermente anche fruttata È una birra figa Come si può dire No sono d'accordo confermo L'ho appena assaggiata ma confermo E non è l'unica birra che proponete qua oggi No adesso oggi Quando abbiamo 5 di 5 stili diversi Dal belga all'inglese al tedesco E poi in distribuzione ce ne sono altri 6 o 7 Dipende dalle stagionali alle classiche Dipende un po' anche dai gusti Di chi vuole bere le cose buone Tra l'altro tu non soltanto sei qua a raccontare di birra Ma lo hai fatto anche attraverso un libro Il libro è questo Le rocambolesche avventure di un romantico alcolista Sei più alcolista più romantico? Nettamente più alcolista Però poi quando diventi alcolista diventi anche romantico Da un birrificio all'altro Birrificio artigianale in Castelcucco Con Manuele raccontaci un po' di questa attività Un'attività che è nata per una passione Che abbiamo avuto io e mio fratello A Castelcucco in provincia di Treviso Nata nel 2009 Noi producevamo impiantini molto piccoli per fare la birra E da lì è nato tutto Quali sono le caratteristiche che rendono speciale la vostra birra rispetto alle altre? Beh, rispetto alle birre industriali Ce ne sono tantissime caratteristiche Rispetto ad altri birrifici Ogni birrificio ha le sue piccole caratteristiche Con i piccoli segreti del mastro birraio Dipende da acqua, materie prime Noi cerchiamo di fare un ventaglio di tipologie di birre Che siano buone, particolari Però comunque che seguono una linea un po' tradizionale Ci basiamo su questo E siamo ospiti adesso di Mario e del suo micro birrificio Riense Raccontaci un pochino Allora, il micro birrificio Riense è una realtà di Voghera Con produzione, a dire il vero, a Pavia Però siamo di Voghera Nata assolutamente per passione Una pura passione per la birra E questo è quanto Ho tre tipologie di birra Non tantissime Che però prendono i gusti di tutte le persone Quali sono le caratteristiche? Le caratteristiche sono Andiamo da una Summer Ale Che è la Rousa Nome dialettale Che vuol dire rugiada Ed è una birra chiara Leggera, molto beverina Dai profumi leggermente agrumati Per passare ad un'altra chiara Che è una Belle Janelle Quindi una birra doppio malto Molto morbida È una birra Per le persone a cui piace Una birra molto amabile Dolciastra Come dicevo appunto morbidissima Ingannevole Per essere una doppio malto E per avere poi una birra Invece ambrata amara Una Indian Pale Ale Quindi in stile inglese Chiaramente amara Molto profumata Dagli spiccati profumi Di frutti esotici Tropicali Secondo recenti statistiche La popolazione femminile Ha scoperto la birra Ti risulta? Assolutamente verissimo Sì Ho notato anch'io questo Nelle fiere Arrivano I morosi O marito e moglie Dove la moglie O la morosa beve E il marito guarda Addirittura Addirittura guarda Se non al limite Il marito beve una piccola E la moglie beve una media Siamo con Jacopo di Picco Brew Ciao Jacopo Ciao Raccontaci un po' della vostra birra Allora Noi siamo di Milano Siamo a metà Tra bir firme e produttore Nel senso che Lavoriamo su un impiantino Da 100 litri Che abbiamo messo in piedi noi E poi In affitto Su un impianto più grosso Da 1200 Pagando per utilizzare I macchinari Però siamo stati I loro primi clienti Abbiamo comunque molto Diciamo Lavoriamo molto Noi in prima persona All'interno del birrificio Per fare le nostre birre E anche se poi Da un punto di vista Legale Le birre escono fuori Dal birrificio E noi le compriamo E poi giriamo per Milano Su un carretto Su una bicicletta Adibita a modipub E vendiamo la birra Direttamente in strada Sui navigli Siamo di solito Adesso abbiamo due carretti Ed è a un anno e mezzo Che siamo in giro E siamo con Antonio Marco ed Alfio Di Domus Carciola La loro specialità È proprio il carciofo Manco a dirlo Ma come lo cucinate Questo carciofo? Innanzitutto questo È il carciofo alla giudia Così si chiama È una ricetta ebraico romana Quindi è vecchissima Sono 500 anni Che gira questa ricetta Però il principale Daniele Santini Ha avuto l'idea Di portarla in giro Per l'Italia E noi siamo i rappresentanti Suoi Però io voglio sapere Come lo cucinate Il carciofo alla giudia Ovviamente è fritto Intero Fritto prima Nero d'oliva E poi nero di semi Non c'è neppa natura Non c'è ripieno È soltanto un pizzico Di sale alla fine Quindi viene fritto intero E mangiato interamente Poi si apre proprio Come un fiore Nell'interno della cottura Da quanti anni Avete questa attività? La serie principale Dove noi stiamo I Castelli Romani E questa idea è nata Per caso l'anno scorso Quindi è stato L'anno scorso Quindi è un anno Poco più di un anno Che noi facciamo Questo genere di attività In giro per l'Italia Come ha reagito La popolazione Anche casteggiana? Allora Qui abbiamo avuto Mille complimenti E la cosa ci fa Enormemente piacere Sei anni a Pavia È un altro progetto In arrivo È corretto? Sì Da un anno Questa parte Abbiamo aperto Un marchio nuovo Piad Italy Per sponsorizzare E aprire Franchising All'estero Di piadinerie E niente L'altro marchio Invece lo Spiada Lo sponsorizziamo Per l'apertura In Italia